bentornati su my football jersey oggi insieme a pietro vediamo la tuta del real madrid per la stagione 22 23 questa tuta di allenamento del real madrid per la stagione 22 23 è prevalentemente in nera e tre stripes sono di colore bianco e continuano oltre le spalle anche sui pantaloni sono presenti le tre stripes sulla parte bassa laterale i simboli di aridas real madrid sono di colore bianco alcuni dettagli di colore viola sui fianchi della giacca e dei pantaloni impreziosiscono il completo una tuta elegante calda e confortevole che non vi farà passare in osservati secondo me molto bella una misura 16 e pietro è alto un metro e 45 e questa ci vuole tutta molte belle rifiniture molto bello questo colore viola nella mia classifica questa prende quattro stelle il costo lo vedete qui sopra veramente un affare per una tuta fatta così bene veramente ben fatta in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia tra l'altro trovate anche un link per ricevere un buono da 3 dollari che potete spendere sul sito per comprare quello che volete ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale alla prossima mio figlio è alto 146 centimetri e pesa 35 kg quella che vedete è una taglia 16 da bambino